Benvenuti a Subasio TV, la televisione online che vi informa ogni settimana sui principali eventi culturali dell'Umbria. Appuntamento a Sigillo in provincia di Perugia per la festa di Santa Barbara, protettrice dei minatori, una categoria di lavoratori assurta recentemente agli onori della cronaca. L'evento si svolge il 4 e 5 dicembre. Potremo vedere una interessante mostra fotografica della storia dei minatori umbri nei locali del Centro Convegni San Giuseppe e partecipare alle celebrazioni religiose. A Bastia Umbra dal 4 al 12 dicembre è consueto appuntamento con Expo Regalo, che si svolge nei grandi padiglioni del complesso di Umbria Fiere. L'evento è il più grande mercato dell'Umbria dei regali di Natale e degli addobbi natalizi, con un'offerta completa di articoli da regalo, prodotti tipici e tecnologici, tradizionali presepi e articoli di abbigliamento. Iniziano le celebrazioni natalizie a Montefalco, dove dal 4 al 6 dicembre avrà luogo Cera una volta a Natale. Eteerei Lampadari Bianchi e Luci Fiocche trasformeranno le vie del borgo di Montefalco in una sorta di scenario da fiaba. Inoltre per tutta la durata dell'evento potremo partecipare a laboratori didattici, degustazioni guidate con prelibatezze tipiche, mostre d'arte, presepi e mercatini di Natale. Ad aglietare l'atmosfera ci saranno concerti e spettacoli teatrali. A Gubbio dal 4 all'8 dicembre gli appassionati di modellismo di tutto il mondo potranno assistere alla mostra di modellismo ferroviario a cura del Comune di Gubbio e dell'Associazione Ferromodellisti di Perugia. Cinque giorni dedicati al vapore in miniatura, con plastici riprodotti in scala, di paesaggi ferroviari con treni in movimento o statici, spazi riservati alla mostra di modellini di treni, una sala dedicata all'esposizione di oggetti ed accessori, vapore vivo, con la realizzazione di un piccolo tratto di vera ferrovia in scala 1 a 11, con locomotive funzionanti a vapore. Il 7 dicembre, sempre a Gubbio, si inaugurerà il consueto albero di Natale più grande del mondo. Un'estensione di circa 450 fari policromi che per tutta la superficie meridionale del Monte Ingino, nei pressi della città, forma l'immagine di un albero di Natale gigantesco e visibile da molto lontano. In cima all'albero, splende, la stella cometa lunga circa 40 metri. Tale immagine, entrata nel 1991 nel Guinness dei Primati, sovrasterà la città di Gubbio fino al 10 gennaio. Per questa settimana è tutto, vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione delle News in rete da mercoledì 8 dicembre, sempre sul nostro sito www.subasio.tv Grazie a tutti!